Domenica 26 febbraio si terranno anche in provincia di Caltanissetta le primarie per l'elezione del segretario nazionale del Partito Democratico. Saranno 20 i seggi in provincia dove gli elettori del PD potranno recarsi. Potranno votare il gazebo del Partito Democratico tutte le cittadine e i cittadini italiani e i cittadini stranieri residenti in Italia. Il voto è consentito a partire dai 16 anni. Per votare occorre essere in possesso di un momento di identità. Il voto è aperto anche a chi non è iscritto al Partito Democratico, ma possono partecipare persone che dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito Democratico, di sostenerlo alle elezioni e accettino di essere registrati nell'albo pubblico delle elettrici e degli elettori. È importante evidenziare che per tutti i cittadini che intendano votare in un seggio diverso da quello del luogo di residenza è necessario pre-registrarsi entro il 24 febbraio alle ore 12. I seggi nei vari comuni della provincia di Caltanissetta sono Caltanissetta, via Salvo d'Acquisto 113, Butera, Piazza Dante 25, Campofrango, via Umberto 35, Delia, Corso Umberto 134-136, Gela, via Palazzi, spazio andistante ospedale, Marianopoli, via Regina Margherita 38, Milena, piazza Aile Benz, Mazzarino, Palazzo Alberti, Montedoro, Sala Consiliare, Mussomeli, piazza del Popolo 44, Niscemi, piazza Vittoria Emanuele 5, Resuttano, via Crispi, Riesi, via Principe Umberto 82, San Cataldo, piazza Papa Giovanni XXIII, Santa Caterina Villarmosa, via Aldisio 61, Serra di Falco, via Cavalieri di Vittorio Veneto 1, Sommatino, Corso Umberto I, Sutera, piazza Sant'Agata, Villalba, via Vittorio Veneto, Vallelunga Pratameno, via Cesare Battisti 105.